Oggi Benelli non vi parlerà di nuove invenzioni, non vi parlerà di prestazioni delle sue armi, ma vi parlerà di armonia delle forme, di grazia e di bellezza. Grazie a tutti. Il Magnifico Seto 5 è la grande sfida di Benelli per rappresentare nel mondo del lusso il lusso fatto attraverso un fucile sereo in automatico. Sappiamo che il lusso fino ad oggi nel mondo delle armi è sempre stato rappresentato dai fucili fini, dai doppietti sovrapposti. Ecco, il Seto 5 invece è la grossa sfida che Benelli coglie e dimostra al mondo come si possa realizzare un fucile fine, unico e veramente accostabile ai fucili più pezzori, utilizzando un'arma a serie automatica. Seto 5 è nascita da un'idea del nostro presidente, il Cavaliere Ingegnere Luigi Moretti, e sono corse cinque anni dal primo brainstorming per realizzare questa opera unica. Cinque anni molto lunghi, molto intensi, che hanno coinvolto la Benelli stessa e una serie di artigiani che hanno contribuito alla realizzazione del Magnifico Seto 5. Nasce chiaramente dal drive inglese, da quelle tradizioni del drive inglese, dove nel Seto 5 abbiamo rappresentato una coppia di calibro 12 gemelle, una coppia di calibro 20 e un singolo pezzo in calibro 28. Generalmente il calibro 12 veniva utilizzato dal capofamiglia, il calibro 20 dalla moglie e il calibro 28 dal figlio primogenito o dalla figlia primogenita. Dando una riscrizione tecnica, le armi che avete sono dei pezzi unici, il calibro 12 è chiaramente composto da alcune caratteristiche costruite sul calibro per l'appunto, e partendo dalla sinistra alla destra, per dare una riscrizione più corretta e più legibile, nella fattispecie invasciamo il calibro 28, che è il calibro destinato al primogenito, e ne diamo descrizione. Partendo dal calcio, il calciolo è realizzato in corno di bufalo, completamente lavorato a mano, inclusi di zigrini fini, con un accoppiamento perfetto con il legno di noce di radica, chiaramente che abbellisce il prodotto. I legni, calcio e rastina sono completamente finiti ad olio, a mano, e gli accoppiamenti tra la parte linea, quindi il calcio, e la carcassa, chiaramente, sono completamente perfetti. In modo ipotetico, se chiudiamo i nostri occhi e proviamo con la mano a toccare le due differenti superfici, potremmo percepire immediatamente una forte complanarità. Parlando della carcassa, realizzata in acciaio Inox, chiaramente, completamente incisa a mano, per ogni fucile sono delle necessarie 2.000 ore di incisione, di lavorazione, questo per dare la percezione del lavoro certosino e importante, chiaramente, che è stato necessario a realizzare questa opera tardi. Tutte quelle che sono le incastonature in oro, sono in oro, chiaramente, in zecchino, in oro giallo, per quanto facete tutto il background che vediamo sulla carcassa, e ci sono dei punti incastorati, dei castori in oro giallo, chiaramente, che danno una forte luminosità a tutta la carcassa stessa. Il fotolo stesso è in acciaio, con delle riprese, delle incisioni, chiaramente, in oro nella parte che si accoppia con la parte rettostante della carcassa. Non c'è una presenza nella parte anteriore o posteriore della guardia della sicura, perché, come nei fucile fini basculanti, è posta sul dorso di basca, in questo caso, nel dorso della carcassa. Quindi, per una posizione molto agevole, ma molto anche distintiva e unica, quando sappiamo che si parla di un fucile semi-automatico. Un'altra peculiarità, chiaramente, è dettata dalla manetta ripieghevole, che non è soltanto, chiaramente, una preziosità estetica, ma diventa anche una preziosità, chiaramente, funzionale, perché evita di potersi impigliare negli abiti, mentre si trasporta, comunque, il fucile. La canna è completamente fatta anch'essa a mano nella campanatura, così come lo ziclino della Vindella, che è ravescato a mano, con un passo molto, molto fine. Gli struttatori sono, nel caso specifico, dal 28 a 3 stelle e sono fissi, con camera 2,75, quindi camera 70. Siamo di fronte a un'opera d'arte, ancora prima che, chiaramente, ha un set di fucili, perché l'unicità, la preziosità, la ricerca dei materiali e dei dettagli fanno sì che il magnifio set of five sia un'opera unica mai realizzata fino ad ora. Completa quella che è, in pochino, l'assessoristica del set of five, una serie accessori che comprendono un kit di pulizia, chiaramente, del set, inclusa in una preziosa bottiglia che contiene dell'olio per la manutenzione dell'arma, e come non citare, chiaramente, poi, quelle che sono, la preziosità intrinseca della valigetta che contiene il set, opera di un artigiano locale, Oscar Mascara, completamente realizzata e cucita a mano, chiaramente in pelle di prima scelta. Una parte della valigetta è smontabile, sfilando quest'asta in legno e si può, chiaramente, utilizzare per trasportare un fuscile. All'interno della valigetta troviamo una novella scritta da un locale scrittore, Umberto Versanti, che è stato candidato nel 2005 al premio Nobel e che racconta un pochino quello che è il connubio tra il rapporto tra l'arma e la famiglia in fila se stessa. Il magnifio set of five è un'opera unica, mai realizzata prima di ora e che sicuramente sarà un punto di riferimento, spero futuro, una grossa sfida che noi colleghiamo con piacere e che offriamo, chiaramente, sul mercato a quei collezionisti che vogliono avere qualcosa di indimenticabile, di ripetibile nella loro collezione. Il progetto Benelli Magnifico Set of Five nasce cinque anni fa con l'obiettivo di offrire un po' di taglia nel mondo in un prodotto che di solito non è riconosciuto come prodotto artistico-culturale. Benelli ha pensato di fare un set di cinque fucili fini, due 12, due 20 e un 28, ma la finezza non è il solo requisito che questi fucili hanno. Diciamo che rincarnano proprio la cultura rinascimentale che ha reso l'Italia famosa in tutto il mondo. Ci siamo ispirati chiaramente ad Urbino, al Palazzo Ducale, al Duca di Montefeltro che tanto ha amato e promosso questi territori. e noi portiamo avanti questa eredità appunto con il Magnifico Set of Five. Abbiamo presentato, rivelato direi, il Magnifico Set of Five a Las Vegas a gennaio durante la convention Safari Club International che celebrava tra l'altro i 50 anni d'età. L'abbiamo presentato in galleria a Dallas, in Texas e a New York e oggi comincia il suo viaggio nel vecchio continente, in Europa, partendo proprio da Urbino, culla di rinascimento, dove il Set of Five è stato pensato, ideato e realizzato. Non ci fermiamo, non ci fermiamo perché tra due settimane saremo a Firenze durante le celebrazioni della 35esima convention Safari Club International Italian Chapter per poi andare in Francia nelle gallerie di Parigi ma non ci fermeremo neanche l'Europa, andremo oltre perché il Benelli Set of Five deve essere considerato come una vera e propria opera arte e come tale deve essere ambasciatrice nel mondo della bellezza, della finezza, della grazia, dell'eleganza e soprattutto del benfatto italiano.